Vai, dalla parte bianca, dalla parte bianca, e molto scazzati ai tappi, questi tetti. Questi sono i tappi? Benissimo. Qui, perché la tappi non c'è la cuore. Quanti tappi ce le serve? Vedi. Tappi di pisco. Quanti tappi ce le serve? Tappi di pisco. Poi lì sono prenotati la mette del zupo, poi la tappi ci sceglie. Vai. Perché la colla è caldo fuori? Eh, quella niente, rimane un po' fuori. Va bene. Tanto quando si asciuga non si asciuga. Se mai colla spando un po' dopo, con pennello. Vai. Allora. Allora.